Salvate il soldato D'Alema, salvatelo dalla rottamazione che ha contagiato anche Walter Veltroni annunciando il suo ritiro. Il documento a sostegno della ricandidatura in Parlamento del leader Maximo parte proprio dal sud. Per noi D'Alema è un punto di riferimento, si legge, basta personalismi e divisioni, parta da qui la sfida per il governo. A muoversi è quel fortino rosso costituito da amministratori, dirigenti di partito, imprenditori, cooperative e fedelissimi che rivolgono il presidente del Copasir in prima linea. I 700 nomi e cognomi sono stati pubblicati sul giornale di partito L'Unità. A muoversi è il sud, in particolare la Puglia e il Salento, dove non mancano le storiche riconferme ma anche molti colpi di scena rappresentati da illustri assenze e da grandi ritorni. Assenze di peso quelle di Alberto Maritati e Nicola Latorre, da sempre molto vicini a D'Alema, ma anche quella della vicepresidente della regione Puglia, Loredana Capone. Grandi ritorni come quello del consigliere regionale Antonio Maniglio, ritornato sui suoi passi dopo una breve ma intensa esperienza da rottamatore. Resiste Antonio Rotundo che non firma il documento. Confermano fedeltà invece l'onorevole Teresa Belanova, Ludovico Vico, l'ex presidente della provincia di Lecce Giovanni Pellegrino, il segretario regionale del PD Sergio Blasi, quello provinciale Salvatore Capone, lo storico amico Fritz Massa, dirigenti di partito come Umberto Uccella, il presidente d'Italia Navigando Ernesto Abaterusso e il figlio Gabriele. Molti amministratori della provincia di Lecce come Luigino Sergio, Andrea Romano, Antonio Zaccheo, Ivan Stomeo, Cosimo Valsano, un inedito Marcello Risi. Firma anche l'ex direttore sanitario Franco Sanapo. Lunga è la lista poi di imprenditori e cooperative che si schierano apertamente pro D'Alema, tutti provenienti dal sud Salento, tutti pronti a sostenere lo storico leader e dunque anche la mozione di Bersani alle primarie del centro-sinistra. Non hanno firmato il documento pro D'Alema ma sono a favore del segretario nazionale del PD, l'Associazione Puglia Futura, anche la realetta del partito che ha da poco incassato la segreteria del PD Lecce. Quella che si sta giocando nel centro-sinistra, la partita per la Premiership, costituisce la possibilità di vedere realizzate le ambizioni per alcuni, riconferme per altri, tutti con l'obiettivo Roma e dunque potrebbe diventare vitale per la personale carriera politica, la vittoria di Bersani e la ricandidatura di D'Alema. Grazie. Grazie.